Dopo la lezione che Isaac Newton diede alla scienza per l'incapacità di fronteggiare situazioni che sembravano non possibili alla fisica di Newton è arrivato Albert Einstein che ha configurato la relatività generale e così facendo ha, secondo quelle che sono le risultanze della fisica modea, confuso un sistema di forze, quello di Newton, che era idealmente perfetto. Se una definizione sembra mancante nella fisica, proprio quella che fa capo alla dinamica, è proprio la definizione della velocità 1 a 1 e della velocità assoluta. Sapere che cosa sia la velocità è il rapporto tra lo spazio e il tempo. Sapere lo spazio in quante componenti sia scomponibile sono le tre date da tre componenti cartesiane. Sapere che la velocità nel tempo è una velocità di tipo lineare dovrebbe portare senza alcun dubbio a definire una velocità su una sola linea 1 a 1 quando essa è unitaria. Quando questa velocità in linea per le necessità a tre dimensioni dello spazio non deve percorrere solo una componente, ma tutte e tre componenti reali procedendo in un verso solo, ecco che allora la velocità 1 a 1 estendendosi alle tre componenti nel solo verso positivo è senza alcun dubbio estesa a essere 3 a 1, senza alcuna ombra di dubbio. Questa è la vera velocità che esiste, giacché una linea, una sola, di per sé è solo un terzo dell'eterna unitaria. tanto che se partendo da un terzo noi desideriamo unificare questa velocità che in sé stessa riguarda un terzo dell'eterna, ecco che un terzo dell'eterna deve moltiplicarsi, e ce lo dice la matematica per essere 1, esattamente per 3, deve divenire 3 terzi. Solo allora quando noi abbiamo una velocità in linea che sia uguale a 3 terzi, solo allora la velocità è divenuta unitaria. come 3 terzi, ossia come l'intero sistema tridimensionale messo in relazione a una sola linea. Tutti questi concetti sono assolutamente semplici e scomposti in singoli vettori rappresentativi dell'avanzamento della realtà. Qualunque sia la realtà, abbiamo nel tempo un vettore che agisce come il denominatore 1 di una frazione e quando questa velocità è totale nel valore del numeratore dobbiamo avere lo spazio nel suo essere a tre dimensioni lineari perché il denominatore in quella dimensione 1 è una dimensione lineare non potendo rimandare il volume che è una dimensione cubica al tempo che è una dimensione lineare a meno di non scomporre il volume in tre componenti lineari non possiamo, se vogliamo, un rapporto espresso tutto quanto in lunghezza visto che nel tempo il denominatore 1 è espresso in lunghezza anche nel numeratore dobbiamo esprimere un volume intero nelle tre componenti della sua lunghezza e quando tutto ciò è sempre uguale a 1 noi abbiamo tre lunghezze 1 quindi abbiamo un 3 che forma ciò che sta alla base lineare del volume che ha la dimensione cubica del coesistere di tutte e tre le linee ecco che quindi la velocità assoluta quando è 3 a 1 si esprime in modo lineare sia nel numeratore sia nel denominatore e mette tra loro in puro rapporto lineare le tre linee che determinano un volume e la linea sotto che determina il volume avanzante in linea nel tempo ecco quando Newton inserisce la sua legge che esprime la forza e la evidenzia come F uguale M per A che recita che la forza è uguale alla accelerazione della massa ecco che è sottinteso qualcosa che riguarda una velocità della massa che non è espressa in modo esatto ma è sottinteso perché la velocità messa a base di ogni cosa è la velocità unitaria e quindi si parte nella forza dalla variazione della velocità unitaria uno a uno con la quale ogni massa è portata apparentemente in avanti nel tempo tanto che è portata in avanti nel tempo di quella distanza spazio temporale uno a uno della velocità uno a uno che consente alla massa di un cubo di spostarsi nel cubo immediatamente adiacente a quel cubo quando noi vediamo dunque la presenza di un cubo che espresso in linee va rappresentato da tre linee unitarie che trasla in quelle tre linee unitarie e occupa il cubo limitrofo sempre in quelle tre linee unitarie l'unica aggiunta che è fatta secondo la velocità uno a uno è quella della giacenza di quel cubo nel lato limitrofo quindi le tre dimensioni del cubo che si spostano in sostanza sono una pura base di riferimento e la variazione secondo cui un cubo da un lato si sposta nel lato successivo presenta un lato come spazio e il movimento del lato per andare in avanti è il suo spostamento nel tempo infatti se abbiamo due cubi uno vicino all'altro uno appartiene ad un tempo l'altro appartiene al tempo immediatamente limitrofo e il cubo per spostarsi da un cubo a quello assolutamente attaccato e limitrofo si è spostato alla velocità unitaria uno a uno se accade questo nella nostra natura noi non vediamo in atto nessun movimento del cubo c'è il cubo che occupa la sua condizione stazionaria perché si muove solo alla velocità unitaria uno a uno spostandosi dallo spazio allo spazio di fianco nella velocità uno a uno dello spostamento nel tempo noi avremo l'impressione di un cubo che è restato fermo lì nello spazio che stiamo considerando nel secondo momento semplicemente perché il nostro punto di osservazione che prima esisteva nello spazio tempo del primo volume e si è spostato ad osservare il secondo spazio tempo nel secondo volume vede il volume occupare sempre lo stesso spazio tempo ma che non è lo stesso perché si tratta del volume accostato al primo ma noi che osserviamo semplicemente le variazioni di posizione non vedremo alcun movimento in quel volume ci sembrerà che sia restato fermo mentre invece si è mosso alla velocità uno a uno tanto che spostandosi di uno nello spazio si è spostato anche di uno nel tempo e noi lo vediamo stazionario ecco il subentro di una forza come dice newton che accelera quella velocità uno a uno che mostra stazionario il cubo è una forza che si esprime nel primo momento al momento dell'accelerazione iniziale quella che mette in movimento quella massa che a noi sembra ferma se quella massa che sembra ferma a noi che trasliamo nel tempo insieme alla massa ha una variazione rispetto alla nostra osservazione del posto occupato da quella massa è perché senz'altro è subentrata una forza che ha spostato quella massa tanto che essa non è più nella stessa condizione rispetto a noi che la osserviamo e dunque abbiamo un'accelerazione della velocità uno a uno e la forza si esprime nel momento iniziale dell'avvio lo sappiamo benissimo che è la forza massima infatti se noi ci mettiamo di fronte a un veicolo che per essere avviato oppone una resistenza due sono i casi che permettono con la forza che noi abbiamo di mettere in movimento quella massa o ce la facciamo o non ce la facciamo grazie agli attriti e a tutto ciò che resiste alla nostra forza fino a che noi non giungiamo al valore idoneo a muovere quella massa la vediamo restare immobile ma appena noi abbiamo il risultato di una nostra capacità a mettere in movimento quel veicolo noi da quel momento in poi riusciremo ad accelerarlo sempre più non ci ritroveremo più di fronte a nessun momento topico per il quale raggiunta una velocità essa non sia accelerabile perché il momento di massima resistenza che una massa ha a essere incrementata nella sua velocità si esprime nel momento della messa in avvio più la velocità cresce più è efficace il nostro sforzo perché sempre meno resistenza esiste ad essere avviata quella massa velocità tanto che la sua velocità incrementi sempre chiaramente noi siamo di fronte a una condizione elementare la forza che sollecita quella massa a entrare in azione è come è descritta una forza vettoriale ha una intensità ha un verso e ha una linea di azione intensità direzione e verso sono le tre caratteristiche che configurano una forza ma nel campo reale laddove la forza è quella che è e dunque ha un limite dobbiamo cercare di capire quale sia il limite di ogni forza il limite sta proprio nella velocità se noi spingiamo il veicolo e per farlo abbiamo bisogno di essere veloci nella spinta ma la nostra velocità anche quando non spingiamo nulla è la massima che ci rivela la gara dei 100 metri in cui un corridore percorre i 100 metri in qualche cosa meno di 10 secondi e bene se questo corridore abbiamo per spingere la massa e portarla continuamente ad accelerare noi avremo la possibilità di portarla fino alla velocità del corridore e non di più perché non abbiamo un corridore in grado di avere una velocità infinita tanto da poter spingere all'infinito quel veicolo e avviarlo a e condurlo e spingerlo a una velocità sempre più grande ogni soggetto reale che agisce con una sua forza ha il limite di quella forza nella sua velocità perché ogni forza ha una sua velocità e di conseguenza non possiamo spingere qualcosa in velocità di accelerazione se il soggetto spingente o la causa spingente non ha raggiunto il limite della sua velocità quando nel campo elettromagnetico chi spinge è la forza magnetica anche la forza magnetica ha il suo limite vediamo che l'accelerazione arriva a un massimo possibile e poi non è in grado di spingere oltre quella velocità tutto ciò ci è chiarissimo e è evidente quando in un anello costruito dall'uomo in cui in una sezione lunga svariati chilometri esistono delle sollecitazioni magnetiche affinché le particelle accelerino sempre più attraverso la spinta magnetica esercitata sulle particelle noi vedremo realmente che con questa attrazione magnetica o spinta magnetica mettetela come volete non è possibile superare la velocità della luce per un semplice motivo la velocità della luce è la velocità del magnetismo perché siamo all'interno di un fenomeno che è elettromagnetico in cui la velocità elettrica non è altro che la velocità magnetica nel suo verso uguale e contrario quindi se noi abbiamo una forza nel magnetismo che ha il limite della sua velocità non possiamo avere una forza di questo tipo a sollecitare una massa finché assuma una velocità che sia superiore a quella della spinta messo di fronte a una situazione di questo tipo in cui la massa che spinge l'energia della luce ha il suo limite Albert Einstein e il suo modello di relatività lo ha portato a teorizzare una cosa totalmente stravagante ossia che non è possibile non al magnetismo di spingere una massa con una velocità superiore a quella della forza magnetica una massa è un ammassamento magnetico che ha ammassato una particella per esempio fatta da sei fotoni che è divenuta una particella quando tutti e sei i versi dei fotoni sono stati presenti tutti e sei e allora l'insieme reagisce come una unica consistenza che qualunque verso noi attiviamo presenta una resistenza proprio in quella componente esattamente uguale e contraria perché quando ne abbiamo sei di fotoni qualunque dei sei noi sollecitiamo vediamo che uno dei sei esiste e si contrappone alla forza espressa dal magnetismo quindi quando abbiamo una particella elettrone che l'esperienza fisica dimostra è possibile ottenere mettendo insieme ossia componendo sei fotoni quando abbiamo una particella della luce che si presenta come una luce ammassata perché si è presentata insieme in tutti e sei i versi ecco allora che questa massa di luce espressa nella particella non può assumere una velocità superiore a quella del magnetismo che l'ha ammassata ma se ciò esiste quando la sollecitazione è di tipo magnetico ciò non significa dire che una sollecitazione diversa una forza diversa che quella del magnetismo e che rispetti il secondo principio della legge dinamica reso cristallino perfetto da newton ossia la forza è la massa moltiplicato per la sua accelerazione la forza non la forza magnetica il sistema di riferimento posto in atto da Einstein sostituisce alla forza la forza magnetica come se non esistesse altra forza che la forza del magnetismo messa lì in linea tutte le masse cinetiche in cui prendiamo per esempio una sfera che ha un centro di tutta la massa se la facciamo ruotare e assumere una energia di puro cinematismo attorno a quel baricentro che resta immobile apparentemente noi avremmo una massa che sembra ferma perché occupa sempre la stessa posizione ma rispetto al cubo prima che aveva assunto semplicemente una traslazione spostandosi nel cubo limitrofo qui abbiamo una sfera ruotante che ha fatto una traslazione unitaria uno a uno spostandosi dalla parte che occupava prima alla parte che occupa dopo ed è limitrofa alla fine spostandosi alla velocità lineare uno su uno ma essa ha altra velocità quella della rotazione intorno al proprio asse e allora ecco che noi siamo in condizione di avere una forza di movimento posseduta da una massa che non solo trarla ma simultaneamente ha una massa cinetica che dovendo semplicemente spingere in modo da fare traslare una massa con tutta la sua forza se noi usiamo tutta la sua forza sia sia quella della traslazione uno su uno ma sia quella che esiste nella sua rotazione ecco che abbiamo un elemento di forza che è in grado di spostare come traslazione quella massa a una velocità che va oltre il limite della luce perché non stiamo ricorrendo soltanto alla forza della massa che quando si sposta come puro magnetismo nella massa si accosta a quella massa e noi la vediamo sempre lì ferma ma abbiamo indotto una forza in più e con la forza in più siamo in condizione di attuare il secondo principio della legge dinamica in barba al limite imposto da Einstein che nella sua forza ha immaginato solo la forza in linea del magnetismo e non la forza cinetica di una massa che così si sposta anche in tutte le masse libere noi abbiamo la terra che si sposta come massa libera e la massa libera non solo trasla secondo la linea che fa compiere alla terra la rotazione di un anno ma mentre accade questa traslazione accade anche una rotazione intorno al suo asse noi abbiamo sempre combinate roto traslazioni e quando accadono in modo normale noi abbiamo anche il riferimento unitario di una rototraslazione unitaria possiamo dire che una sfera ruotante una sfera ferma che si sposta di lato e quando si è spostata ha compiuto non solo una traslazione ma anche una rotazione mentre ha compiuto ciò alla velocità di traslazione uno a uno ha compiuto e acquisito anche una velocità di traslazione legata strettamente a leggi precisissime che riguardano l'elettromagnetismo infatti vediamo assai bene che con riferimento alla terra se un giorno terrestre implica esattamente 144 minuti primi e questo risulta solo nella sua rotazione di un giorno questo giorno si è sviluppato anche come una parte ben precisa della rotazione attorno al centro improprio e quando tutto questo spostamento di un giorno attorno al centro improprio ossia sole è valutato in tutto quanto il suo percorso scopriamo che occorrono 365 giorni più un quarto perché noi il tempo laddove lo spazio-tempo occupa quattro dimensioni una tempo e tre di spazio dunque sono quattro e il tempo è una sola ecco il tempo di per sé riferito al totale che è quattro è un quarto e quando il valore intero è un giorno noi dobbiamo porre in atto un giorno di quattro quarti e alla base unitaria del tempo della rotazione attorno al sole ci vanno i giorni espressi nel limite dei quarti e tutto ciò si evidenzia esattamente come 365 più un quarto poi ci sono altri tempi ancora che sono espressi in un anno attraverso i secondi rotti che esistono con quei secondi rotti poiché un giorno per essere un giorno aggiunto implica 157 anni ecco che noi dopo 157 anni avremo la necessità di aggiungere ancora un giorno perché quando abbiamo masse che sembrano libere e non lo sono perché sono costrette ha un sistema localizzato che quindi le colloca come una rotazione imprigionata nella gravità del sole e il sole stesso è imprigionato dentro una dinamica che riguarda la sua galassia noi abbiamo che i moti nel tempo tengono conto proprio di tutto questo e noi vedremo che esiste una legge che quando un corpo è costretto ad avere queste rotazioni primaria secondaria e terziaria si manifesta nel giusto tempo che tutto questo impiega quando invece abbiamo la stessa cosa ma sganciata da queste necessità corporee di far parte di un sistema obbligato e abbiamo una massa libera noi possiamo immaginarla come un corpo avente una sua massa concreta oppure come una massa di luce che avanzi in linea il modello è sempre lo stesso e noi avremo che la velocità assoluta di questo modello poiché lo spazio ha tre dimensioni ma il tempo avanza in linea dovremo esprimere lo spazio con tre dimensioni lineari e dovremo esprimere il tempo con una dimensione lineare e allora avremo una velocità totale che di per sé espressa nelle sue tre dimensioni più la quarta che è il tempo messa sotto avremo tutto questo espresso nella velocità 3 a 1 quando per riferimenti legati alla piccolezza del metro che noi abbiamo configurato anziché avere la dimensione 3 dell'indice di volume noi l'abbiamo espressa questa dimensione 3 legata al nostro intero mondo nel riferimento di qualcosa che rispetto al nostro intero mondo è una sua piccola parte ossia è esattamente la sua 300 milionesima parte ecco che con la dimensione 3 calcolata attraverso la 300 milionesima parte noi dovremo avere espressa la dimensione 3 nel numero di 300 milioni che è quello che rende unitario il 300 milionesimo siamo obbligati ad avere la velocità 300 milioni a 1 e tutto questo nel rispetto sacrosanto della fisica di Newton quella dei vettori quella delle masse per quale motivo le cose si conturbano quando entra in scena la visione un po' fantascientifica di Albert Einstein egli considera non più la massa come qualcosa che sia in sé ma qualcosa che cambia al mutarsi della velocità Albert Einstein sta sbagliando totalmente il suo concetto perché la massa unitaria non cambia la massa unitaria è espressa da quelle quattro dimensioni dello spazio-tempo perché è tutto ciò che è contenuto nell'ammassamento di un cubo che implica tre dimensioni lineari quando si è spostato nella quarta dimensione affiancata e il cubo ha compiuto il suo esatto traslare nel tempo e allora la base unitaria della massa ha sempre quattro dimensioni precise non muta quando entra in atto la velocità entra perché è introdotta una forza che con la massa non c'entra nulla infatti induce una variazione sulla massa ma Albert Einstein per far combinare le cose cambia il modello del riferimento perfetto che era stato tracciato da Newton certo riuscirà a dare risposta alle equazioni che sembravano non avere una risposta nel modello di Newton ma per quale motivo sembravano mancare le risposte perché entra in atto l'incapacità di distinguere tra di loro i parametri rappresentativi con chiarezza tanto che ciascuno resti religiosamente se stesso la massa unitaria deve essere se stessa se aumenta la sua velocità aumenta la sua forza perché essa ha avuto un'accelerazione e quella accelerazione gliel'ha indotta la forza la massa avente una certa velocità certamente ha in se stessa una certa forza ma non si può mettere insieme capre e cavoli quella forza è determinata dalla massa in sé e dalla velocità che è entrata in atto non si può mescolare le due cose per farne una sola perché se si compie questa cosa si arriva proprio all'assurdo per cui quando la velocità di una massa arrivi ad essere quella del quadrato della velocità della luce avrebbe una massa infinita una massa infinita è proprio una cosa addirittura pazza da concepire ma se per Einstein a mano a mano che una massa aumenta la velocità aumenta anche la sua massa e non la forza di quella massa non ha capito che una pallottola ha la sua massa che è sempre la massa peso perché perché se noi dobbiamo calcolare la massa come ciò che resiste all'accelerazione resiste alla sua messa in moto a noi è sufficiente prendere quella pallottola metterla su un piano che resiste alla sua accelerazione gravitazionale perché così fa la forza terrestre con la sua forza magnetica tenta di accelerare la massa tanto da gravitarla verso il centro della terra ma quel piano impedisce l'avvio quindi questa bilancia che computa esattamente la resistenza all'avvio alla messa in moto di quella massa sta precisando in modo assolutamente perfetto qualsia quella massa che avanza semplicemente nel tempo e non si muove perché si è traslata a velocità uno a uno e a noi che abbiamo fatto come osservatori lo stesso sistema di traslare da quel volume in quello rimitrofo noi non vedremo quel movimento spaziale dallo spazio tempo di prima allo spazio tempo di adesso perché i parametri spaziali sono rimasti sempre gli stessi ecco quando noi abbiamo capito che non è possibile credere che la massa di questa pallottola che messa su una bilancia rivela di essere che so 10 grammi messa poi in un fucile e sparata acquista una velocità tale che quando questa pallottola è poggiata su una lamina di metallo non induce proprio nessun effetto su quella lamina di metallo ma quando ha quella velocità con cui è stata sparata dalla nostra pistola o dal nostro fucile ecco che colpisce quella stessa lamina metallica e la perfora dunque la visione pulita per parametri corretti che aveva Newton è stata imbastardita da una grande confusione che ha fatto Albert Einstein che anziché procedere in modo analitico e andare a trovare con precisione ogni componente tanto che la massa di un qualcosa sia sempre quella massa lì come quel volume che da uno spazio tempo si è traslato nel volumetto vicino accostato e quella è la massa nella sua velocità unitaria di traslazione nello spazio tempo è quella velocità che si pone come il momento iniziale rispetto a una maggiore velocità che ci mostri che quella massa non sta lì nello stesso posto ma si muova perché oltre allo spazio tempo autonomo che ha traslato semplicemente quella massa fino al valore della massa accostata ha inserito ancora una velocità e allora è entrata in atto una forza che ha prodotto il movimento di quella massa il movimento rotatorio è la cosa che mette in difficoltà totale tutti coloro che incontrano nella teoria di Newton un ostacolo alla comprensione perché non arrivano a capire che cosa induca in atto rispetto alle componenti l'entrata in azione di una velocità quando noi abbiamo uno spazio che è disaggregato in tutti e sei i versi perché da un centro una massa può andare davanti dietro destra sinistra sopra sotto tre direzioni fondamentali scisse perfettamente nella loro uguaglianza in velocità e differenza in verso e direzione quando noi abbiamo una cosa di questo tipo ma per di più si muove ecco che noi dobbiamo indurre una componente in più nel tempo del suo movimento in avanti e quindi noi avremo la velocità uno a uno espansa in tutti e sei i versi e diventa una velocità sei a uno che implica sette componenti quando noi vediamo tutto ciò in un ciclo che cosa succede? che in effetti noi avendo sei a uno come velocità e esprimendo la velocità in funzione del raggio e voi mi dite perché? perché esiste una legge che dice che quando abbiamo un corpo che percorre una intera rotazione si muove sempre percorrendo aree uguali in tempi uguali quindi la velocità e il tempo impiegato per percorrere un giro varia in dipendenza del raggio perché la circonferenza è legata sempre nelle stesse condizioni espresse dalla curvatura di 3 e 14 rispetto al diametro e l'unica variazione che amplia la superficie è il raggio quindi quando noi vediamo la velocità 6 a 1 all'atto pratico noi abbiamo un cono il quale cono abbia una linea che dal vertice arriva fino alla base circolare ed è lunga 1 questo è il tempo del raggio vero che esiste è obliquo perché perché la rotazione dal vertice a mano a mano che tutto ciò accade è costretta anche ad ampliarsi e di conseguenza siamo proprio nella rappresentazione di una figura conica quando la circonferenza è esattamente 6 volte la congiungente tra il vertice e il valore base del cerchio abbiamo queste condizioni il raggio è 1 e la circonferenza è 6 questa è la relazione che esiste tra lo spazio che abbia 6 dimensioni e il tempo che abbia una dimensione ma noi vedete il cerchio quando si presenta tutto insieme ci si mostra spianato così non come quella base così lineare appartenente al cono per cui noi possiamo leggere la dimensione giusta nel lato che va dal vertice a quella base no noi stiamo osservando la base così nel suo piano e che cosa misura se sono le 6 dimensioni dei 6 versi messi come un ciclo unico perché compiuti tutti e 6 praticamente ritorniamo al punto di origine eccoli qua i 6 versi ma dove è finito il valore obliquo che collegava il vertice del cono in questa visione è finito sullo stesso piano e noi lo stiamo vedendo non nella sua dimensione vera ma nella sua proiezione tanto che il centro del cono dentro questa visione appare essere il centro della circonferenza e quel tratto obliquo che era lungo realmente 1 nella proiezione si riduce soltanto al raggio apparente che non è quello vero perché quello vero che esiste nel rapporto 1 a 6 è obliquo quel centro che sembra appartenere al piano della circonferenza non è al centro di quel piano ma è dislocato in una profondità tale che la distanza tra ogni punto della circonferenza e quel vertice sia esattamente uguale a 1 vedete noi stiamo osservando in questo modo qui per proiezioni e non per condizioni esattamente vere e quando andiamo a riferire tutto ciò a cose che non abbiamo dimensionato perfettamente ma in alcuni casi le leggiamo veramente nella loro lunghezza in altre come il raggio lo stiamo valutando non nella sua vera lunghezza ma nella lunghezza apparente per una proiezione che ha appiazzito tutta la distribuzione nella profondità del tempo ecco vedete mettere insieme le cose non è facile eppure lo è quando si consideri che analizzando tutto soltanto come spazio e considerando un metro che è ciò che è stato calcolato come l'ideale tratto che è lo spazio ideale della nostra rappresentazione quando andiamo a prendere la rappresentazione dello spazio atomico esso è 10 elevato a meno 10 ossia è lungo 1 diviso 10 elevato a 10 ed è uno spazio atomico ecco uno spazio atomico da solo non conta nulla deve essere espresso dal ciclo di 10 unità e quindi necessariamente la presenza di uno spazio atomico vale nel suo totale esistere solo in 10 spazi atomici e quando consideriamo tutto il volume reale espresso in funzioni di spazi atomici esso assume la quantità di 10 al cubo abbiamo mille masse atomiche ebbene quando consideriamo queste 10 elevato al cubo presenti dentro 10 elevato a 10 che cosa manca manca 10 elevato a 7 ossia lo spazio 6 deve aggiungersi anche al riferimento 1 e divenire nell'indice non 10 elevato a 6 ma 10 elevato a 7 perché per ottenere a partire dal metro quella dimensione del volume atomico 10 angstrom al cubo noi dobbiamo dividere quello che è il metro per 10 elevato a 7 quindi vedete automaticamente il sistema per espressione lineare si commisura allo spazio tempo perché 7 è in ragione dello spazio tempo è in ragione di una velocità 6 a 1 e di conseguenza noi abbiamo tutti i modi di ricondurre a una pura espressione in linea di tipo vettoriale che implica esattamente tutte le dimensioni e le forze per come le aveva concepite perfettamente Newton tanto da poter fare i conteggi qual è la grande novità indotta da Albert Einstein che ha riguardato la massa è stato il giudizio sulla relatività ristretta secondo cui l'energia è uguale alla massa moltiplicato per il quadrato della velocità della luce Albert Einstein è famoso famosissimo per la sua famosa formula è uguale mc2 e che cosa sta considerando Albert Einstein sta considerando come al solito una condizione confusa perché sta calcolando non tutta l'energia ma solo l'energia avanzante nel tempo alla velocità della luce non è tutta l'energia perché se io per attuare una velocità a partire dalle dieci componenti spaziali che esistono dieci componenti che esistono in ogni cosa questo è stato assunto duecento e passa anni or sono dalla fisica le componenti quantitative della presenza sono dieci allora cari amici se noi come spazio ne consideriamo presenti solo tre è perché c'è nel denominatore una presenza una presenza di sette componenti che si sono messe in atto come il tempo di una velocità 3 a 7 la velocità del sistema a tre dimensioni è 3 a 7 questa è la velocità espressa nella presenza 10 tanto che il 10 si è reso presente come tre vettori nel numeratore e sette vettori nel denominatore disaggregando la presenza dei dieci vettori che esprimono vettori di ogni possibile qualità tempo spazio massa qualunque qualità ma se dalla relatività che implica il riferimento alla velocità della luce noi abbiamo una velocità della luce che non si presenta nel numero 3 a 1 ma quasi perché esiste questo quasi perché si presenta in velocità perché ciò che esiste ed esiste in linea su tre lati perché è un cubo che avanza e dunque sarebbe 300 milioni di metri se non si muovessero sarebbero presenti tutti e 300 milioni lì come un puro rapporto tra 300 milioni di 300 milionesimi avremmo semplicemente un 1 che sta lì e non si muove perché si muova essendoci un tempo di presenza ritagliato in quel 300 milioni occorre nella formula l'esistenza di un tempo pari a un secondo ma questo secondo mentre è tempo è anche spazio ma bisogna capire che la presenza è sempre quella e se noi togliamo un tempo spazio da quella presenza riduciamo la presenza di quanto la riduciamo se per unità di misura riferita a 300 milioni stiamo usando il metro che è un 300 milionesimo si tratta di vedere quanti di questi milionesimi mancano poiché non sono 300 milioni di 300 milionesimi e solo questo determinerebbe il valore unitario 300 milioni di 300 milionesimi e invece non abbiamo 300 milionesimi espresso in milionesimi ne abbiamo solo 299 milioni 792 458 quanti milionesimi mancano ne mancano esattamente per 207 542 questo è il quantitativo di unità 300 milionesime che si sono messe a tempo di quelle residue che sono restate nella apparenza di spazio di presenza ecco quando si usa la velocità della luce si parte proprio ben sapendo che se lo spazio è il tempo cosa affermata e sostenuta da Einstein quel minuto secondo che è tempo deve essere anche spazio e quindi come minimo lo spazio percorso non è solo quello nel numeratore c'è anche dello spazio percorso nel denominatore che ha assunto la presenza letta come un secondo quanto è si tratta di scendere far scendere tutto dall'unità noi l'unità usando il 300 milionesimo siamo costretti a chiamarla 300 milioni non vediamo arrivare tutti e 300 milioni ma solo una parte perché l'altra parte si è messa al denominatore quanto vale l'altra parte basta semplicemente fare un calcolo che non implica equazioni straordinariamente difficili ma una pura e semplice sottrazione 300 milioni meno 299 milioni 792 mila 458 e abbiamo con precisione assoluta 207 542 metri stiamo ricorrendo forse alle formule straordinarie da cui Albert Einstein ha ottenuto la sua formula no stiamo semplicemente facendo il conto della serva usando nemmeno l'algebra usando semplicemente l'arizmetica e stiamo calcolando vettori unitario il metro è un vettore unitario pari a 300 milionesima parte di 300 milioni e con questo vettore che è spazio e è tempo a seconda di come noi lo mettiamo nel numeratore o nel denominatore vediamo che esistono un certo quantitativo nel numeratore un altro nel denominatore perché e perché le quantità totali si presentano in velocità ossia si sono divise in una formula spazio-temporale e si arriva a capire con grande ragione che cosa manca manca proprio il vettore il vettore che cos'è? è quel valore unitario che è collocato sotto la frazione ed è il vettore tempo della quantità superiore è un vettore tempo che è calcolato un secondo e infatti questo un secondo fa da vettore nel tempo ma vale per 207.542 metri che sono l'unità del fenomeno elettromagnetico perché noi per misurare un fenomeno dobbiamo usare l'unità di quel fenomeno non il metro e secondo che sono dei puri parametri di riferimento tra lo spazio e il tempo ma dei parametri che riferiscano l'unità di un fenomeno complesso come l'elettromagnetismo e in che modo possiamo scindere questo complesso con un estremo ordine che calcoli in un modo preciso singole componenti non secondo quell'elasticità in cui tutto cambia perché se io cado ho una massa e se cado più velocemente ho un'altra massa ancora questo si chiama perturbare un quadro logico che deve essere costruito in maniera rigorosa per singole componenti che siano sempre quelle e con le quali si possa calcolare bene allora vediamo esattamente il calcolo della unità dell'elettromagnetismo l'elettromagnetismo è un volume in espansione se da un centro si espande o in ammassamento se da un centro si ammassa dunque questa componente deve avere l'equivalenza tra una velocità elettrica e una velocità magnetica perché è elettromagnetismo le due componenti sono uguali ma si mettono in relazione tra di loro come accade nel calcolo di un prodotto che ti presenta un'area o un'accelerazione di una componente tipo azione che coinvolge una componente uguale e contraria tipo reazione questo miscelamento accade nelle due forme di uno spazio che ha perso ogni movimento nel tempo e ha assunto tutta l'ampiezza e invece una pura componente in linea che è stata ridotta all'unità di una sezione la quale unità moltiplicata per tutto il valore espresso in lunghezza la evidenzia come volume ora quando noi abbiamo che il totale proprio per assunto il totale di presenza è sempre 10 quanto è quando è 10 sia come base sia come ciclo dell'indice è 10 elevato a 10 10 elevato a 10 deve essere un fronte elettromagnetico 10 per 10 e quando è dunque 10 elevato a 10 qual è la radice quadrata di 10 elevato a 10 che determina la lunghezza di un lato è 10 elevato a 5 infatti 10 elevato a 5 moltiplicato per 10 elevato a 5 è uguale a 10 elevato a 10 dunque la lunghezza totale la massima possibile sia all'aspetto elettrico sia all'aspetto magnetico è 10 elevato a 5 in unità sono 100 mila sono due una messa in orizzontale l'altra messa in versicale a determinare un'area 10 elevato a 10 ebbene dunque essendo due linee e ognuna è 100 mila le due linee sono 200 mila metri perché il metro è il valore unitario cui abbiamo scomposto il tutto attraverso 300 milioni di 300 milionesimi benissimo capito allora che 200 mila sono il requisito in linea che dobbiamo avere come lunghezza elettrica più lunghezza magnetica quando è quella totale dobbiamo anche dire che è un volume che non cambia quel numero perché essendo metri in lunghezza sono metri quadrati di condizione di area trasversale ma poiché noi l'area la consideriamo ancora nelle dimensioni della lunghezza abbiamo due parametri di lunghezza un metro in orizzontale e un metro in verticale che si aggiungono ai 200 mila tanto che la lunghezza complessiva del volume elettromagnetico diventa 200 mila metri necessari a descriverlo poi abbiamo due condizioni espresse una nella massa e l'altra nel fronte della massa che mostra l'intensità della luce allora osserviamo prima la massa lanciata in velocità quanto sono se la massa è lanciata in velocità unitaria uno è il tempo sei sono tutti i versi che quel tempo deve percorrere quindi sono sette dimensioni dimensioni sette dimensioni sono quelle unitarie della massa ma quando noi ci riferiamo all'unità della massa che è il millesimo e noi stiamo rappresentando attraverso un metro in linea ciò che è esiste in centimetri in decimetri cubi dobbiamo dire che ogni metro quando rappresenta la massa millesima ne rappresenta mille e di conseguenza quelle sette dimensioni della velocità sei a uno diventano settemila perché ognuna è essendo espressa in metri l'equivalenza dei mille decimetri cubi che esistono su un metro cubo perché un metro cubo perché abbiamo detto queste lunghezze riguardano un fronte che è un metro quadrato e quindi se noi ne stiamo considerando in linea un metro non è che abbiamo un metro abbiamo un metro cubo e in un metro cubo quante masse ci sono? Mille decimetri cubi ecco perché se vogliamo esprimere la massa nel volume spaziale dobbiamo moltiplicare il sette per mille e abbiamo settemila con questo abbiamo risolto il problema della velocità uno a uno della massa che percorre sei versi quando in ogni verso ce n'è mille adesso dobbiamo vedere quell'aspetto non della massa vista traslare in questo modo ma della massa di luce che come accade nella luce che ci viene dal sole non stiamo calcolando la lunghezza dal sole fino a noi ma la intensità di luce che abbiamo davanti quanto è il valore dell'intensità unitaria della luce questa è una quantificazione che ha fatto la fisica e la vista nella candela la candela è riferita al ciclo 10 dentro una dimensione che è 10 elevato a 12 è un hertz che riguarda una piccola dimensione ma quando invece di questa piccola dimensione riguarda proprio un metro questi rapporti di grandezza non c'entrano niente con il numero e il numero resta quello che è 540 quando non è più riferito a 10 elevato a 12 hertz ma è un metro e quindi la quantità unitaria riferita in metri dell'intensità della luce è 540 se volete sapere come mai perché è perché quando noi abbiamo idealmente uno che esiste nel ciclo 10 ed è 9 tutta l'energia di spostamento di quell'1 nel 10 quindi è 9 ma questo 9 noi lo dobbiamo esprimere in tutti e 6 versi che esistono e 9 per 6 fa 54 quando 54 sono le unità ma noi stiamo calcolando sempre tutto nel ciclo di 10 unità ecco che dobbiamo calcolarne non 54 ma 540 vedete il calcolo preciso puntuale risulta verificato in una maniera talmente perfetta che quando non si va a disaggregare la rappresentazione delle forze come l'aveva fatta Newton si è in grado di capire tutto ma bisogna capire che cosa accade quando le dimensioni non sono 6 ma sono 7 se non si arriva a capire realmente che cosa succede quando la velocità per percorrere 6 linee ne implica 7 di dimensioni allora non si arriva a capire in che modo accadano le rotazioni in relazione agli andamenti in linea invece c'è tutto il modo che io vi sto facendo capire di poter riferire tutto ciò che accade al sistema proprio di riferimento indotto come forze da Newton in questo sistema di riferimento ci accorgiamo che l'energia della movimentazione della luce è veicolata e Einstein sta calcolando solo la quantità veicolata dal tempo e l'energia proprio del veicolo che trasporta caro Albert non lo calcoli sì lo calcolo in velocità sì ma il quanto è legato solo poi a 299 milioni che è il parametro della velocità in spazio e hai trascurato l'esistenza reale di quello spazio perché semplicemente si è messo a veicolo e quel veicolo lo hai cosa significa significa se vogliamo riferire tutto questo sistema a un sistema rappresentato in ogni trasmissione reale significa avere un conto corrente bancario in cui ci sono accrediti di energia economica che però implica dei tempi di trasferimento perché perché se qualcuno mi sta versando sul mio conto dei valori di energia economica ma impiegano tre giorni a venire io a causa della lentezza di questa velocità che ha implicato un certo quantitativo a rimanere lì a non essere presente tutto insieme nel numeratore e quindi non mi trascina tutto nel numeratore perché una parte si mette a tempo ed è un tempo di pura misura se accade questo io devo aspettare il tempo richiesto dal sistema e quando vado a chiedere il mio saldo anche se ho un sacco di accrediti che sono già stati emessi su di me ma in banche lontane io avrò un saldo solo del disponibile ecco Albert Einstein non sta calcolando tutta l'energia ma solo l'energia disponibile e invece quando dal sole sta venendo verso di me dell'energia è vero che fin quando io non la ricevo posso stare tranquillo vivere serenamente perché se fosse una energia devastante esplosiva io qui sulla terra per otto giorni per otto minuti scusatemi otto minuti primi potrei starmene ancora tranquillo inconsapevole e solo otto minuti dopo io sarei devastato da tutta questa energia che è arrivata e ha creato uno sconquasso terribile nel mio mondo quindi il computo di Einstein ha un suo valore perché noi oggi abbiamo l'energia disponibile che è quella che è ma non è l'energia totale allora quando noi stiamo usando solo l'energia disponibile nella nostra natura attraverso solo la massa che arriva e non calcoliamo tutta l'energia che sarebbe veramente possibile se solo ci sganciassimo da questa lentezza di velocità vediamo che quando noi dovessimo avere superato il limite di questa velocità noi non aspetteremmo più niente per ricevere tutta l'energia dunque il computo di Einstein è un computo che ha una sua validità ma proprio relativa perché cosa manca manca proprio il vettore quel vettore che non è ancora arrivato non è calcolato ma quel vettore sta già viaggiando verso di noi quindi se noi prescindiamo da ciò che è condizionato alla velocità reale e consideriamo che è già nostro quel capitale che è stato emesso a noi ma solo che non è ancora arrivato ecco che le quantificazioni cui giunge Albert Einstein non sono quelle che sono vere perché egli arriva a dire che abbiamo un limite nella disponibilità che è legato da quella lentezza e non ci permette l'accesso di quello che è in viaggio perché essendo in viaggio non essendo ancora arrivato è come se non fosse nostro ma invece è nostro è una energia in potenza che noi abbiamo e che semplicemente non è giunta in atto perché non l'abbiamo calcolata presente ma c'è è insita in quella velocità perché noi non riceviamo soltanto in un carretto veloce quello che è trasportato dal carretto la velocità della luce che trascura il vettore e considera solo le cose portate sta ignorando che esiste un carretto con la sua energia sul quale carretto sono posti un certo quantitativo di cose o dimensioni trasportate dal carretto la vera energia è l'energia del carretto il resto è solo un multiplo di quella energia che sta nel carretto e che si presenta in valori plurimi non possiamo trascurare l'energia del carretto perché anche se a noi non sembrerà arrivato il carretto perché seguita ad andare avanti e indietro e noi utilizziamo soltanto l'energia trasportata dal carretto il carretto quando arriva e noi cogliamo solo ciò che è sopra il carretto come ciò che è sopra il numeratore e diciamo che ci manca quello che abbiamo messo sotto perché lo abbiamo configurato come il carretto e il carretto serve per portare quello che sta sopra il carretto proprio come un denominatore serve per portare quello che sta nel numeratore ma se arriva il tutto è arrivato anche il carretto e perché noi non abbiamo calcolato semplicemente perché non ha assunto la forma spaziale ma la forma temporale e poiché noi vediamo lo spazio solo nello spazio non vediamo in alcun modo la presenza del carretto che è arrivato e per farlo arrivare quei 207 1542 metri saranno messi proprio come un tempo di attesa lungo un secondo con il quale vedremo tutto ciò solo nella dimensione di un secondo mentre invece sono tanti metri e solo quando si completa il secondo praticamente vediamo tutto e però non siamo stati capaci di capire quel secondo che è avanzato come il carretto quanti enti come il numeratore aveva abbiamo considerato soltanto uno dei due termini solo il numeratore e abbiamo trascurato totalmente il valore posto sotto come tempo perché essendo tempo abbiamo trascurato il vettore ecco non è permesso che si faccia una roba del genere quando si fanno i calcoli totali perché il calcolo totale di tutto ciò che è presente è 10 se questa presenza è a tre dimensioni e abbiamo un cubo che è 10 10 e 10 e dunque 1000 e se per altre ragioni questo 1000 noi lo calcoliamo 3 perché sono tre dimensioni o 30 o 300 o 300 milioni di 300 milionesimi questo non c'entra in alcun modo la presenza nel volume implica tre dimensioni e quando tutto arriva ha spostato interamente tutte e tre le dimensioni che grazie al 300 milionesimo che noi usiamo per misurarle sono 300 milioni di metri 300 milionesimi che ci sembrano arrivare soltanto con una parte mentre invece sono arrivati con tutte e due il vettore e ciò che è veicato ma non siamo stati in grado di apprezzare il denominatore perché avendolo messo sotto gli abbiamo dato la dimensione tempo e quella dimensione tempo non siamo stati più in grado di calcolarla nel modello di Einstein e infatti egli non usa il quadrato di 3 o di 300 milioni di 300 milionesimi ma è quadrato solo di quella parte che arriva ha trascurato totalmente la presenza del vettore e il risultato è una energia che sembra arrivare con una quantità e invece arriva con una quantità di gran lunga superiore perché arriva anche con il vettore fino a quando noi lo calcoliamo metri su secondo siamo fuorviati ma quando lo calcoliamo metri su metri e scopriamo che i metri sono 299 milioni 792 mila 458 e il secondo sono i metri che mancano a 300 milioni di 300 milionesimi solo allora siamo in grado di capire che è arrivato tutto quanto e ne potremo disporre dunque bisogna correggere la relatività ristretta perché la verità assoluta è espressa come energia uguale m per 9 volte 10 elevato a 16 metri quadrati secondo quadrato esattamente il quadrato di 3 velocità pura unitaria di 300 milioni di 300 milionesimi e non come fa Einstein che calcola la massa per solo la velocità relativa che non è quella totale perché non arriva soltanto il trasporto del carretto ma arriva anche il carretto se noi vogliamo calcolare il tutto nell'energia che arriva arriva il vettore assieme a quello che veicola invece secondo il nostro caro Albert Einstein che avendo modificato tutte le condizioni di analisi sulle verità di Newton ha confuso le acque arriva anche a non capire perché sia già nostro tutto quello che non sembra ancora arrivato perché noi non siamo capaci di dare una valutazione al tempo non essendo capaci e vedendo arrivare solo spazio crediamo che sia arrivato solo spazio e non sia arrivato il tempo che ci ha veicolato lì ma dobbiamo dare l'energia anche al tempo e se non diamo l'energia anche a tempo ma solo allo spazio che si presenta in velocità noi stiamo creando la confusione di quantificare delle cose attraverso il rapporto tra altre due ecco ma se si va ripeto a scomporre in parametri rappresentativi tutte le cose allora si scoprirà che vale ancora con un valore eterno e immutabile tutto quello che è stato posto in essere non da Albert Einstein ma ancora da Isaac Newton con una grande sorpresa di tutti coloro che di fronte per esempio alla teoria della luce ti arrivano a dire che la luce è un'onda e non è un corpo perché secondo Isaac Newton esisteva la teoria corpuscolare della luce no la luce non è un corpuscolo la luce è una onda ma amici come appare il corpuscolo di un elettrone quando lo vedete su una bolla elettrostatica appare come una spirale compare in un punto lì il vertice di quel cono e poi a mano a mano che si avvicina al davanti che abbiamo noi girando intorno a questo ingrandimento conico assume la forma di una spirale ma tutto ciò accade grazie alla prospettiva che noi vediamo in essere nel cono che ci risulta appiattita quando togliamo di mezzo questo appiattimento e la rotazione che arriva la vediamo traslare ecco ditemi amici cosa state vedendo di questa rototraslazione se non un'onda voi vedete un'onda di fianco tu voi cogliete un'onda ma che cos'è è un corpuscolo che mentre ruota tralla lateralmente la vedrete un'onda mentre invece nel suo fronte si presenta come una massa di luce frontale voi da una parte disaggregate le stesse cose e vi fate condizionare da come appaiono tanto che viste quando non passano per voi le vedete passare in velocità e dite la luce non ha massa perché avanza così e non vi risulta ma quando avanza per così vi risulta come massa di luce come quantità in grado di compiere lavoro su di voi la vostra pelle si arrossa avete un impatto vero e proprio di una massa che induce variazioni alla massa del vostro corpo ma se è roto traslazione e la massa voi la vedete solo quando vi investe non potete dire che esiste solo quello che vi investe o no tanto che quando vi investe allora si ha massa ma l'onda invece che non vi investe è solo un fotone non ha massa è solo luce che avanza in velocità nello spazio tempo voi per certi aspetti siete schiavi del sistema rappresentativo che è diverso a seconda che voi un avvenimento lo vediate di punta o di lato lo stesso avvenimento per esempio un carretto che di notte percorra un tratto e che in linea con quel tratto veda un fotografo qui che su una lastra fotografica nel tempo di posa di 10 secondi registra l'apparire la luce che procedendo in linea picchia sempre sulla stessa parte della pellicola produce una massa di luce ma se lo stesso fenomeno è visto di lato da un osservatore che è frontale a quella linea di avanzamento e sta facendo la fotografia nello stesso minuto secondo egli nella fotografia vedrà una scia di luce e dirà è una luce in pura velocità che non ha massa di luce perché la luce è tutta sparsa in lunghezza quell'altro dice no è ammassata perché picchia tutto su questo punto e uno dirà la teoria è il corpuscolo che ha la massa di luce perché la riceve da una posizione l'altro che non si vede investito da quella luce dirà non c'è massa anche voi cari amici se assistete di fianco a una strada un'automobile che sfreccia lungo la via vedrete solo il movimento di una massa e non sarete in grado di apprezzarne la massa se invece c'è un vostro simile che è lì sul percorso di quell'automobile e l'automobile lo investe questo più che l'impatto con la massa è ammazzato allora quel veicolo ce l'ha o non ce l'ha la massa se voi lo vedete solo passare in velocità e solo uno tra te e un altro è in grado di apprezzarne la massa velocità luce massa eccetera sono solo forme disaggregate dell'apparire di un fenomeno a seconda della posizione dell'osservatore di quel fenomeno e non potete messi di fronte a un fenomeno osservato sempre di lato come una rototraslazione che vi appare di lato come un'onda dire no la luce è solo un'onda aveva ragione chi la scopriva quell'onda come una energia di ammassamento su di voi che induce delle conseguenze che è in grado di un lavoro vero e proprio compiuto su di voi proprio grazie alla massa che vi investe ecco ma di fronte a tutto ciò vale esattamente e varrà per sempre quello che ha rivelato Isaac Newton mentre invece su quello che Albert Einstein ha configurato per dare una spiegazione a certe condizioni che non sembravano regolate da Newton perché avevano delle commissioni e non erano in grado i fisici di scomporre quelle commissioni nei valori elementari tanto che non ci hanno capito niente ci hanno potuto capire soltanto nel modo confuso di Albert Einstein quando ha creato delle commissioni che erano in grado di spiegare le commissioni ma se esiste un aspetto di commissione o la fisica è in grado di scenderlo nelle singole componenti che sono quelle e non cambiano mai oppure il sistema rappresentativo che verrà scelto sarà un sistema come dire commissionato e di conseguenza l'intelligenza pura se ne va proprio a farsi benedire di spiegare